Nel minuto di recupero, palla a Menes, Pizzarro, due passi e bastonata violentissima sulla quale Campagnolo non può far nulla al 46esimo, Regina 1, Roma 1. Rivediamo ed in effetti il portiere tocca a Pizzarro, Campagnolo respinge ma la ribattuta è del romanista che è in sacca al 13esimo, Regina 1, Roma 2. L'esultanza dei romanisti possiamo rivedere con Campagnolo in tutti i casi davvero bravo sul tiro di Pizzarro.